E buonasera ragazzi bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui come avrete letto dal titolo finalmente andremmo a giocare con l'ultima parola Infatti ragazzi ieri sera per chi ci ha seguito in live ci siamo impallati a bestia per prendere finalmente questa cosa Quest'ultima parola che aspettavo da tantissimo dal primo giorno di wrestling che ho detto io voglio che rimetteranno l'ultima parola E quindi niente andiamo subito a vedere i perchi perché magari chi non conosce quest'arma deve conoscerla altrimenti viene picchiata tantissimo L'ultima parola questo canale leggendario che viene da Destiny 1 e di cui adesso andiamo subito a vedere i perchi Innanzitutto il suo perchi esotico si chiama sventagliatore, quest'arma può sparare rapidamente e continuamente Causare danni consecutivi senza mirare aumenta la velocità di ricarica e la precisione Quindi questo perchi ci permette di usare l'arma praticamente solo e esclusivamente in fire e dopo vedremo anche per quale motivo Dopodichè abbiamo una regatura a spirale quindi una canna bilanciata che aumenta leggermente la gestata stabilità e leggermente la maneggevolezza Proiettili rifiniti quindi aumentando la gestata Impugnatura al bruciapelo, un'impugnatura ergonomica che aumenta la precisione e stabilità quando spari senza guardare nel merino E impugnatura ruvida, un'impugnatura di quest'arma possiede un attrito molto forte e quindi aumenta notevolmente la maneggevolezza e riduce leggermente la stabilità Diciamo che quest'insieme di perk la rende un'arma molto dinamica e molto rapida come utilizzo Quindi adesso direi subitamente a vedere quello che riusciamo a fare Ok, senato decaduto, vediamo cosa riusciamo a fare E nel frattempo andiamo subito a parlare dell'arma Innanzitutto vi dico che normalmente per le armi sottiche come penso vi sarete abituati Tendiamo a fare solamente recensioni Però l'ultima parola era qualcosa di troppo importante per non farla tornare Quindi abbiamo dovuto per forza fare questa piccola eccezione Inoltre voglio dirvi che un'altra particolarità di quest'arma è quella che non è un cadone portatile come gli altri Infatti è un cadone portatile a 225 colpi al minuto come penso che avrete visto E inoltre fa anche un sacco, un sacco, un sacco di danno Perché essendo un 225 colpi al minuto dovrebbe fare una cosa come molto poco danno In realtà fa 51 al corpo che è veramente tantissimo Se considerate che l'ulato fa se non sbaglio 59 al corpo, al testa, ovviamente senza il colpo caricato E quindi di conseguenza è come se avessimo un fiducia o un lullato alla luna ovviamente senza il lullato magnifico Che però uccide in body, uccide quadriciappa in body Considerando anche la cadenza che è veramente una cosa di abnorme Ora penso che in questo video lo vedrete però non sto per niente mirando in testa Per quale motivo? Innanzitutto l'arma la uso prettamente in fire perché altrimenti la cosa diventa abbastanza ingestibile Infatti faccio vedere il rinculo senza il fire è qualcosa di atroce Considerando anche la cadenza che è molto alta è veramente difficile da gestire Quindi anche il fatto che l'arma venga utilizzata prettamente in fire ci spinge a mirare al corpo Perché alla fine è un'arma che è come avere un fiducia che però shotta in body Diciamo avere un martello che sai com'è? Non è proprio comodo da incontrare Dicevo è come avere un fiducia che shotta in body, che quadri tappa in body Quindi di conseguenza non abbiamo particolarmente bisogno di mirare in testa E di prendere quindi in testa Anche se tuttavia prendere in testa sarebbe molto comodo Perché comunque l'arma tritappa in testa è ovviamente molto difficile Quindi andrebbe diciamo sviluppato questa cosa dello sparare in testa Però non è comunque facile Inoltre ci tengo a specificare anche che l'arma è molto equilibrata Infatti dal trailer sembrava fosse qualcosa di atroce Perché appunto essendo un 225 che tritappa in testa L'ululato diventerebbe inutile Quello che perlomeno ho pensato io E invece questo è stato compensato da molti fattori Primo dei quali è appunto il fatto che Sia molto difficile mettere tre colpi in testa di fila Inoltre la gittata è veramente molto bassa Come potete vedere, no non ve lo faccio vedere perché se non muoio malissimo La gittata è veramente molto molto bassa Essendo quindi la gittata molto bassa L'arma diventa un'arma da utilizzare in spazi corti, in spazi chiusi Quindi diciamo un'avversaria di un'eventuale pompa Infatti penso che mi avete visto parecchie volte morire dal pompa Perché essenzialmente è l'unico pericolo che può esistere per quest'arma Allora non ho giocato nemmeno benissimo questa pagina che ormai è finita Anzi ho giocato anche abbastanza male Però ragazzi è un'arma molto particolare Un'arma che secondo me va saputa usare Perché non è nemmeno semplicissima Il fatto che spari in hipfire non sempre ci fa capire dove vanno i colpi Perché comunque è un hipfire, è vero che è più preciso Ma rimane un hipfire quindi il vantaggio della mira lo andiamo a perdere Ok dopo 84 quid per trovare una mappa decente che non fosse tipo chilometrica Siamo riusciti a trovare la mappa perfetta Sperando che i pompa non arrivino prima Ecco appunto Vedete già da queste distanze l'arma non ce la fa Perché bisogna essere vicini, molto vicini Spesso anche troppo nel senso che appunto un pompa potrebbe avere la meglio No 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 crepa Un po' sprecata sta granata ma vabbè Un consiglio che vi do è quello di tenere sempre l'arma carica al massimo Perché tanto non ha caricatura caduta quindi non c'è bisogno Non c'è bisogno di preoccuparsi se in caso finite i colpi E è molto comodo perché potrebbe capitarvi ed è molto facile che vi capiti Che vi finiscano i colpi nello spalle Per esempio questo io ho dovuto usare 5 colpi per ucciderlo Comunque c'è sempre la sicurezza di avere più colpi Perché già averne 5 ci dà un margine di errore molto molto basso Sinceramente comunque non è un'arma che utilizzerei magari in situazioni competitive Perché boh perlomeno non ora perché l'utilizzo che ne sto facendo non è dei migliori Diciamo che se riuscissi ad imparare a mettere sempre i tap in testa Probabilmente lo farei anche Però al momento non è un'arma che utilizzerei in competitiva C'è da dire comunque che a me perlomeno a un primo personale I colpi sembra che non entrino proprio subito O è il fatto che comunque Giocando in fire la precisione diminuisce Penso ovviamente rispetto a giocare con la mira attiva La precisione è minore Lasci fuori Oh no cosa scarico Ecco ok Già ho fatto due tappi in testa qua Ho filato qualche colpo però Già meglio Devo dire che in questa roba ci sono veramente pochi 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 pompa Ecco me lo sono proprio chiamato il pompa Fuggi che c'è il pistolero Eh 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 però eh però Cosa è successo cosa è successo Madonna raga cosa sta succedendo Eh p***a Però vedete che già rispetto alla partita di prima Ci ho preso decisamente più la mano Che da queste distanze magari lasciamo stare Bisogna anche in certi momenti giocare un po' di camper Perché eh le distanze come ho detto Sono quelle che sono Non ci possiamo spingere troppo oltre Però possiamo Al contrario Pushare abbastanza Ovviamente stanno attento ai pompa L'unica pecca dell'arma alla fine ragazzi è questa Quello che penso io Perché eh Prendendoci un attimo la mano Si riescono a mettere anche Dei buoni colpi Quindi appunto Prendendoci un attimo la mano Essendo uno stile di gioco totalmente diverso da qualsiasi altra arma Si riescono Oddio quanta gente Si riescono a fare delle cose abbastanza Corrine Quanta gente Il limite principale è quello della gittata Che è È corta ragazzi È una bassa gittata Quindi bisogna giocare per forza da queste distanze In cui magari un pompa Ha spesso la meglio Qui mi hanno stato in otto Quindi appunto Anche per questo Ripeto il fatto che non lo utilizzerei probabilmente In una situazione competitiva Vedete ragazzi C'è colpi come questo Perché non è entrato A me sembra Pienamente preso il tipo Però a quanto pare Eh niente Qui ho tentato di prendere in testa Ma vedete che i colpi Sono difficili da mettere in testa Anche perché comunque L'area di impatto dell'arma È molto più ampia Di quanto potrebbe essere L'area di impatto Di una qualunque altra arma Considerando che L'unico pelino che abbiamo È un cerchietto Non è un puntino Come potrebbe essere appunto qua L'area di impatto Ovviamente è diversa Perché il proiettile Può andare in Un punto qualsiasi Di questi puntini là Che comunque Non è poco Soprattutto se Più allunghiamo le distanze Comunque abbiamo vinto E penso di aver giocato Abbastanza Bene Meglio sicuramente La partita Ma Nemmeno tantissimo Eh infatti Ho fatto 32 kill 291 Buona partita Ci sta Ok ragazzi Quindi questa Era la mitica Ultima parola Come ho già detto Un'arma Veramente eccezionale Particolarissima Nel suo genere E Un'arma che Riparisco Non utilizzerà In situazioni competitive Se non dopo averlo Saputo utilizzare Imparato a utilizzare Molto molto bene Perché È un'arma che Predilige le corte distanze Distanze da cui Se la cava molto bene Con pompa Quindi Stavol comunque Decidere se puntare Magari sulle lunghe Quindi Mettere l'ultima parola E per esempio Un cecchino Oppure Utilizzarla Come fosse un pompa E quindi Dovete comunque Riuscire a padronaggiarla Molto molto bene E riuscire a vincere Essenzialmente I gunfights Contro un pompa Comunque Nei prossimi giorni Uscirà la recensione Riguardo l'arma Dopo che l'avremmo Imparato ad utilizzare Per bene In modo tale Da sapervi dare Anche un giudizio Un po' più Oggettivo Quindi ragazzi Questa è l'alarma Io direi che Se il video vi piaciuto Lasciate Commentate Condividete Lo dito E conoscete Che non conoscete Che c'è la talissima Seguite anche su Instagram Facebook Come ogni video Vi lasciamo Questa in descrizione E anche da bellissimo Nuovissimo Fanzasissimo sito E vedo questo Ci vediamo Alla prossima Ciao Ciao Io sono Gaud E la tua luce E mia